Sono mesi che non riceviamo notizie da questa stazione. Chi sei tu? Io sono la dottoressa Chris Kennedy. Chi sei tu? Chiamarli visitatori li fa sembrare umani. Non sono umani, sono mostri. Che cosa ci facciamo su una stazione spaziale che orbita intorno a un pianeta che si chiama Solaris? Grazie.